Ciao a tutti e buona giornata. Allora, eccoci qui come al solito per parlare di ciò che accade più o meno, insomma, sul tubo e più nello specifico in casa da Limberti. Ieri ci sono stati due live, una di Chiara e una di, al solito, di Davide. Quella di Chiara, che possiamo definire live guasta, ha parlato ancora una volta di Faith e di Eva, ha ribadito concetti che erano già stati detti e ridetti nella live di ieri, e cioè che Faith non è una bella persona, che Faith non è magra, che Faith ha violato la sua privacy per quanto riguarda la targa della macchina, che se la targa della macchina è un dato pubblico, allora lei deve assolutamente mostrare anche la sua di targa, cioè non vedo perché dovrebbe farla in maniera autonoma, visto che non l'avete fatto neanche voi, nel senso che comunque si è parlato della targa della vostra auto soltanto quando qualcuno l'ha postata sotto il, in una chat sotto la live di Davide, quindi non è stata neanche Faith a far uscire questa targa, quindi non vedo perché lei di sua spontanea volontà dovrebbe dire la sua. In ogni caso io ho cercato un attimino se questo dato, cioè la targa di una macchina, fosse effettivamente un dato pubblico o meno. E su un sito dove appunto si fanno visure PRA c'è questa decitura. Per ottenere una visura PRA non è necessario essere il proprietario del veicolo, i dati che sono contenuti nel registro PRA sono dati pubblici e quindi chiunque può consultarli liberamente. E quindi alla fin fine, a ragione Faith, questo dato è un dato pubblico per cui tutti possono consultare il PRA. Quindi non si può parlare di violazione della privacy, a meno che poi su una piattaforma pubblica, dopo aver fatto la visura appunto di una targa, non si metta nome e cognome, data di nascita e resinenza del proprietario della macchina stessa. Dopodiché ha detto che Faith, al posto di ridare i soldi a Dennis, perché non so se ricordate, ma Faith aveva detto che una volta che avesse cominciato la monetizzazione, avrebbe usato i soldi per ridare 520 euro a Dennis. E visto che le avevano fatto una domanda in chat su questo punto, Chiara ha risposto che al posto di ridare questi soldi appunto a Dennis, lei li ha spesi per comprarsi il computer, per comprarsi la sedia rosa, insomma tutto ciò che adesso sta usando per fare i video. E le dice anche di ringraziarla perché è per merito suo che lei si è potuta permettere queste cose. Allora, sinceramente io non vedo perché una terza persona dovrebbe ridare i soldi a Dennis. Lui li ha prestati ad una persona nello specifico e dovrebbe essere questa persona appunto ridare questi soldi. Se Faith si è ripromessa di farlo, io sono sicura che insomma lo farà. Non credo che lei abbia bisogno dei soldi di YouTube per comprarsi, per acquistarsi, insomma, pc, sedia e quant'altro, o anche microfono, perché sembra che il microfono, le sedie e quant'altro se le possa permettere soltanto Chiara. Tutti gli altri insomma debbono avere un modo per fare soldi perché altrimenti insomma sono tutti degli sfigati e non potrebbero permettersi di comprare queste cose, però a quanto pare così non è. Anche perché insomma Faith ha dimostrato nel corso del tempo insomma che può permettersi di acquistare questo ed altro. Va avanti così per circa 38-39 minuti per quanto riguarda Faith. Faith si alza un paio di volte perché poverina è in preda alla dissenteria e dice che questo è l'effetto che gli fa parlare di Faith. Se così fosse allora non parlare perché così ti risparmi insomma le andate alla toilette. Ecco, si è dovuta anche bere poverina insomma un bicchiere di limonata per cercare di tamponare il tamponabile e poi passa ad Eva. Passa ad Eva. Cosa dice di Eva? Dice che usa il figlio per fare il chianimento. Dice che quando ha detto disgraziato al figlio non intendeva certo denigrarlo, offenderlo o quant'altro perché lei intendeva disgraziato perché ha dei genitori di merda e che deve imparare l'italiano. Allora io direi che a questo punto sia chiara che non ha ben diciamo presente le parole italiane perché ad esempio parlando anche di Faith ha detto che Faith aveva parlato degli spettri del borderline e lei dall'alto della sua infinita cultura spiega che lo spettro tra virgolette viene usato soltanto per quanto riguarda l'autismo e che non viene usato per altre malattie insomma come può essere quello del borderline o quant'altro. Spettro inteso come campo di applicazione o raggio d'azione. Quando qualcuno cerca di spiegargli in live che non è come ha detto lei cioè che si può usare anche in altri ambiti viene subito e prontamente bannato perché è come dice lei punto. E anche per quanto riguarda il dare del disgraziato al figlio di Eva può essere anche interpretato in maniera offensiva per quanto riguarda il bimbo perché se è vero che disgraziato significa persona a cui niente va per il verso giusto o che ha sopportato molte sventure può significare anche persona che non è fisicamente o psichicamente normale. Questo non lo dico io, questo lo dice il dizionario. Quindi dipende dall'accezione diciamo con cui viene sia usata sia recepita. Quindi a questo punto direi che insomma è chiara che dovrebbe fare un attimino di più un attimino attenzione ecco ad usare certe parole. Dopodiché parla anche di quando Eva ha dato contro alla figlia della signora delle Hortensie perché questa ragazzina era minorenne aveva fatto uno scatto in abiti con cui insomma stava facendo palestra quindi magari erano abbastanza non dico succenti però insomma si sa magari un toppino un pantaloncino un po' piattillato insomma questa ragazza aveva postato questa foto con una frase che era non lo so in qualche modo diciamo sexy ecco non era hot ecco diciamola e da lì Eva si era scatenata appunto dicendo che questa questa persona questa ragazzina non era una ragazzina per bene mettiamolo in questa maniera. Lei dice che è stato qualcosa di obrobrioso prendersela con una ragazzina minorenne offenderla e quant'altro. Probabilmente lei non si ricorda di ciò che è accaduto tra lei e Blues perché anche lei ha offeso questo ragazzino che all'epoca era 17enne e l'ha offeso inoltre gli ha augurato anche come dire di non vivere a lungo ecco. E quindi un po' di ipocrisia nel ragionamento di Chiara c'è diciamo un po' insomma un po' molta e poi dice anche che se anche questa ragazza quando si era fatta questo selfie era vestita in un modo un po' magari anche provocatorio la malizia sta comunque negli occhi di chi guarda e io direi che ha ragionissima Chiara hai ragionissima quindi quando tu insomma prendi in giro o giudichi Faith per come va vestita perché le si vedono insomma le si vede il balconcino o quant'altro la malizia è nei tuoi occhi e non nel vestito di Faith. Comunque va avanti ancora un po' dopodiché chiude e passiamo alla live di Davide. Live di Davide come al solito abbastanza noiosetta quando dice ancora una volta che per quanto riguarda Faith insomma vomiterebbe addosso insomma al solito ecco. E poi la sua live si intitola Fate schifo noi facciamo schifo lui invece è un vero signore veramente. Tanto signore che si presenta in chat in canotta che sembra sbrindellata nel senso che gli sta larga non riesco a capire comunque dà l'idea veramente di sciatto con una salviettina da bidet che insomma si asciuga la fronte si asciuga il labbro superiore perché evidentemente suda parecchio anche se ha il ventilatore acceso dopodiché prende questo asciugamano e se lo sbatte sulla schiena come per fanno i santoni non so se avete presente i santoni o comunque le persone indiane per scacciare le mosche e dopodiché insomma si parla di altre cose sempre insomma con la sua con il suo savoir faire con il suo modo così signorile insomma. A un certo punto dice che per evitare il moderatore fantasma che troneggia in tutte le sue live deve farle nel canale nuovo che però ancora deve monetizzare perché gli mancano 4.000 ore di visual e che farà posterà dei video come dice sempre insomma e dice che sabato ci sarà una sorpresa o forse no dipende un attimino insomma se ha voglia o meno e Daniela la socerina 2000 gli scrive in chat è una vita che lo dici meno male insomma che più o meno anche i parenti si rendono conto che questi dicono e poi non fanno mai lui però dice che lo farà sabato scherzando dice che lo farà quel giorno perché la Luciana andrà a Castagne lui invece dice che deve andare a Vermi e la socerina gli dice in che zona andiamo? Andiamo giù in Meridione a cercare i Vermi? Ecco ragazzi questa non si lascia mai sfuggire occasione di dire le sue cazzate ecco lasciatemelo dire le sue cazzate maligne e poi insomma noi siamo quelli che dovremmo provare empatia per questa donna che alle volte viene maltrattata fra virgolette dai suoi compagni di vita compagni di vita riferendomi a Chiara e Davide e Love Live poi procede ancora lui parla della sua giovinezza perché gli chiedono magari di far vedere qualche foto in cui lui è appunto giovane più giovane dice che lui ha passato una bellissima giovinezza una bellissima infanzia una bellissima giovinezza che ha coronato il suo sogno quello che era il sogno della sua vita e cioè di sposarsi quindi della serie cioè visto che questo era il sogno non dico che si è accontentata della prima che gli è capitato ma insomma vabbè ha coronato il suo sogno e vabbè poi continua si trascina più che continua un altro po' la live e alla fine chiude a 48 minuti e 25 secondi cioè non dura neanche le classiche due ore io non voglio dire nulla perché già ho detto abbastanza mentre vi raccontavo queste cose che sinceramente non sono neanche più interessanti perché dicono e ripetono sempre le solite cose ogni tanto escono perle dalla signora Luciana chiamiamole perle per non dire feci insomma e niente ragazzi questo è se volete rendervi conto di ciò che dice riguardo ai meridionali la signora Luciana potete andare al minuto 14 e 21 così insomma sentirete con le vostre orecchie ciò che dice e questo lo faccio presente perché molte volte insomma si può anche pensare che le persone che fanno critiche o che fanno riassunti magari possano esagerare invece no è tutto reale e insomma questo era tutto io vi auguro una buona giornata come al solito vi ricordo se volete di iscrivervi al mio canale se volete di lasciarmi un like e se volete di lasciarmi anche un commento ciao a tutti e ancora buona giornata e ovviamente un bacione